il pentolino magico grimma c'era una volta un contadino che aveva una figliola e gli andava aggiornata la figliola filava stoppa o tesseva tela per conto delle vicine così si guadagnavano la vita avvenne una gran siccità nei campi non nacque un filo d'erba e non ci fu più da lavorare per nessuno dei due avevano un gruzzoletto messo prudentemente da parte nel buon tempo e per parecchi mesi poterono tirare innanzi vivendo quasi a pane e acqua il padre sospirava pensando all'avvenire ma la ragazza gioviale anche con la miseria canticchiava da mattina a sera come quando era al telaio con la rocca al fianco e lo stomaco pieno un padre brontolava con che cuore canti ci rimane da mangiare appena per altri due giorni quando sarò morta non canterò più mentre parlavano comparve sulla soglia una donna scarna allampanata che pareva il ritratto della fame fate la carità buona gente siamo più miseri di voi rispose il padre rivolgetevi altrove la ragazza invece prese la pagnottella che doveva essere il suo decinare di quel giorno e la pose alla vecchia ammanzatela per me grazie figliuola intascata la pagnottella la vecchia cavò di sotto lo scialle unto e stracciato una padellina nuova di rame tieni figliuola non ho altro forse ti servirà e andò via la ragazza si rimise a canterellare picchiando con le nocche delle dita sulla padellina che dava un bel suono poi per gioco la posò sul focolare spento e ridendo disse al padre che volete una costoletta una frittata e non aveva ancora finito di parlare che una fiammata si accese e la padellina cominciò a friggere spandendo attorno un odore che avrebbe risuscitato un morto che miracolo figliuola mia siamo ricchi nella padellina fumavano due costolette da bastare anche per quattro persone e quando furono cotte il fuoco si spense da sé metà ne mangiarono padre e figlia metà ne spartirono tra le vicine più povere di loro l'odore si sentiva per tutta la via dall'ora in poi a ogni mezzogiorno la ragazza metteva la padellina sul focolare spento e domandava al padre che volete una costoletta o una frittata una frittata e poco dopo la frittata era bella e cotta da poter bastare fino per otto persone parte ne mangiavano padre e figlia parte ne dividevano tra le vicine più povere di loro l'odore si sentiva per tutta la via la cosa fece scalpore le stesse vicine che ricevevano la carità cominciarono a parlare come mai padre e figlia con quella miseria senza guadagno alcuno si lascialavano in quel modo le charle giunsero fino all'orecchio del re giusto in quei giorni la regina si era ammalata con un'inappetenza che non le permetteva di prendere nessun cibo e i medici non sapevano come rimediarvi la regina avrebbe voluto qualcosa da ristorarla con solo odore e il cuoco si stillava il cervello per accontentarla ma davanti alle pietanze più squisite la regina torceva il capo nauseata portatele via mi si rivolta allo stomaco il re che aveva sentito parlare del buon odore delle pietanze di quei contadini disse ai medici proviamo a far preparare il pranzo della regina da costoro forse per la stranezza lo gradirà e mandò a chiamare la ragazza vuoi essere la cuoca della regina come piace a vostra maestà viene ad abitare nel palazzo reale a un patto maestà in cucina con me dovrà stare soltanto mio padre soltanto tuo padre giunta l'ora del desinare la ragazza si presentò alla regina maestà che volete una costoletta una frettata una costoletta la ragazza mandò via dalla cucina tutte le persone che erano al servizio del re dal cuoco allo sguattero si chiuse a chiave dentro insieme col padre e mise la padellina sul focolare spento padellina una costoletta la regina all'odore della costoletta fumante nel piatto si sentì ristorare benedette le tue mani ragazza mia mangiò con grande appetito come da più settimane non faceva e in segno della sua gratitudine regalò alla ragazza una collana di brillanti maestà questa è una collana da regina non da contadina mia pari sei regina anche tu regina di tutte le cuoche e gliela mise al collo con le proprie mani ogni giorno a ogni pranzo era un nuovo regalo ora una spilla con un magnifico smeraldo ora boccole di perle grosse come uova ora un braccialetto finemente cesellato e tempestato di rubini maestà è un ornamento da regina non da contadina mia pari sei regina anche tu regina di tutte le cuoche in corte non si ragionava che di quei mirabili pranzi e i medici erano stupiti che il grave male della regina fosse già guarito col semplice rimedio di una costoletta di una frittata già che la padellina non dava altro un giorno il reuccio entrò in camera della regina che aveva appena terminato di mangiare l'ultimo boccone che buon odore maestà odor di costoletta reuccio un altro giorno che buon odore maestà odor di frittata reuccio sempre le stesse cose maestà sempre ma ogni volta hanno un sapore diverso e come fa la vostra cuoca lo sa lei il reuccio entrò in gran curiosità e volle andare in cucina per vederla lavorare in cucina dobbiamo stare soltanto mio padre e dio io sono reuccio reuccio non reuccio ho la parola di sua maestà in cucina dobbiamo stare soltanto mio padre e io il reuccio indispettito afferrò la padellina che era lì tutta affumicata e gliela strofinò sulla faccia annerendogliela come quella di una mora e se ne andò chiudendo la ragazza e il padre nella casa come prigionieri quel giorno per caso avevano da mangiare il giorno dopo però cominciarono a provare fame erano come murate in casa e non potevano nemmeno gridare al soccorso poveri noi moriremo di fame la padellina stava appesa un chiodo pulita e luccicante qual era rimasta dal momento che il reuccio l'aveva strofinata sulla faccia della ragazza la ragazza la guardava in cagnesco con gli occhi pieni di lacrime e si sentiva gorgogliare in gola maledetta la padellina e chi me la dette la vede muoversi e la sentì risonare come quando la prima volta gli aveva picchiato su con le nocche delle dita la staccò dal chiodo la posò sul focolare spento e disse al padre che volete una costoletta una frittata non aveva finito di parlare e la fiammata si accese e la padellina cominciò a friggere spandendo attorno un odore che avrebbe risuscitato un morto padre e figlia a una voce esclamarono benedetta la padellina e chi ce la dette corsero alla porta ma il paletto non si poteva muovere corsero alla finestra ma il lucchetto era più duro del paletto intanto il buon odore delle pietanze si sentiva nella via il re saputa la cosa mandò subito a prendere la ragazza aprite vi vuole sua maestà non possiamo aprire aprite voi il re manda i fabbri per forzare la serratura o sfondare la porta i fabbri tentano ritentano ma inutilmente manda allora i muratori per fare un gran buco nel muro ma i picconi si spuntano il muro parfatto di bronzo la regina agonizzava il re avrebbe dato metà del suo regno pur di vederla risanare con le costolette e le frittate della padellina miracolosa fare con quella serratura con quella porta e con quel muro che resisteva a tutto un giorno finalmente la regina chiude gli occhi e rimane immobile la credono morta e si leva un gran pianto per tutto il palazzo reale il re dalla disperazione e dal dolore si strappava i capelli a un fatto la regina riapre gli occhi e dice ho fatto un sogno mi pareva ad essere stata portata dietro la porta di quella casa e che il solo odore delle pietanze mi avesse risanata maestà voglio provare se il sogno è veritiero i servitori presero il letto come una barella e portarono la regina dietro la porta che non poteva aprirsi regina delle cuoche fammi sentire almeno l'odore delle tue pietanze regina non rispose nessuno non si sentì odore di sorta regina delle cuoche fammi sentire almeno l'odore delle tue pietanze regina non rispose nessuno e non si sentì alcun odore il re quasi piangendo gridò regina delle cuoche se fai sentire l'odore delle tue pietanze sarai regina per davvero maestà disse un ministro che cosa vi è scappato di bocca parola di re non va indietro e non andrà partano cento corrieri e vadano in cerca del re uccio e se il re uccio non vuole sposarla l'adotterò per figliuola e sarà reginotta si sentì subito un odore delizioso che si sparse per tutta la via la regina annusava e rinasceva da morte a vita annusavano il re i ministri il seguito di corte la folla pigiata nella via attorno al letto della regina e tutti si sentivano riempire lo stomaco quasi avessero pranzato lautamente per parecchie settimane nessuno pensò a fare la spesa e ad accendere un fornello aspettavano che la regina fosse portata col letto dietro la porta di quella casa e appena l'odore delle pietanze cominciava a spandersi si vedevano mille e mille nasi per aria annusare avidamente e da lì a poco a poco scoppiavano dei grandi ah di soddisfazione come dava un pranzo copioso i corrieri reali erano partiti subito alla ricerca del reuccio ma le settimane passavano nessuno di essi tornava e l'odore intanto veniva meno di giorno in giorno con gran terrore del re della regina e non era ancora ristabilita in salute la gente preso gusto a quel genere di pranzo così buono e che non costava niente malediva quegli stupidi corrieri incapaci di trovare il reuccio una mattina inaspettatamente ecco uno dei corrieri e poi un altro e poi un altro scalmanati sfiniti avete trovato il reuccio non l'abbiamo trovato due giorni dopo ecco l'ultimo più scalmanato e più sfinito degli altri hai trovato il reuccio no ma ho trovato chissà dov'è è un pastore che guarda le pecore laggiù laggiù disse indovina mi prima quest'indovinello e poi saprai dov'è il reuccio non l'ho indovinato e non me l'ha detto che indovinello non ero nato per fare il pastore eppure dovevo mungere e tosare basta è lui gridò il ministro che di mungere e tosare non si intendeva assai conducemi dove gli si trova e partì insieme col corriere infatti era proprio lui ne aveva viste e patite tante fino ad essersi ridotto a fare il guardiano di pecore e non gli pareva vero tornare reuccio anche a patto di sposare la regina delle cuoche appena arrivato andò a picchiare alla porta che non si poteva aprire sono reuccio invece della porta si aprì la finestra e comparve la ragazza con la faccia nera e la padellina in mano la padellina era affumicata questa è la mia dote chi mi vuole per mogliera deve farsi la faccia nera e se nera non la fa donde viene se ne andrà il reuccio esitava non gli andava di doversi impiastricciare di fumo al cospetto di tanta gente radunatasi alla notizia del suo arrivo poi si strinse nelle spalle prese la padellina e chiusi gli occhi se la strofinò sulla faccia tingendosi peggio di un moro e mentre la sua anneriva quella della ragazza li diventava bianca come la cera ora potete entrare infatti la porta si spalancò da sé e il reuccio trovò sulla soglia la ragazza vestita come una regina con la collana lo spillone gli orecchini e i braccialetti regalateli quando faceva la cuoca sembrava una regina nata tanto era bella e dignitosa il popolo applaudiva viva la reginotta viva il reuccio e nello stesso tempo rideva vedendo costui tutto impiastricciato a quel modo ma rise per poco la ragazza prese il grembiule lo passò sulla faccia del reuccio e in men che non si dica io la ripulì prima che si sposassero la regina era già bella e guarita le feste delle nozze durarono un mese intero e della padellina che ne faremo disse il reuccio si faccia un bando chi ha una padellina venga a sfregarla con questa friggerà da sé ugualmente figuriamoci che cuccagna pareva tutti i giorni un festino la gente si dava bel tempo e all'ora del pranzo mettevano la padellina sui fornelli spenti padellina una costoletta padellina una frittata e tutte le padelline friggevano la gente mangiava ad ufo frittate e costolette avevano ogni volta un sapore diverso ma purtroppo chi non lavora non è mai contento cominciarono a brontolare sempre costolette sempre frittate la fata che aveva regalato la padellina portentosa alla ragazza in premio della carità da lei fatta si sdegnò di quell'ingratitudine è un bel giorno anzi un brutto giorno prese di nuovo le sembianze di vecchia e si presentò alla reginotta sono quella della padellina brontolano sempre costolette sempre frittate ecco qui un'altra padellina che frigge diversamente strofinino le loro con questa e vedano il miracolo corsero tutti strofinarono e si trovarono canzonati